Buongiorno, abbiamo oggi il piacere di porre qualche domanda al Cavalier Giuseppe Benanti. Il vino è passione, cultura, stile di vita, racconto del territorio. Quanto questi valori vengono ricercati nel grande mercato internazionale? Ma in effetti il mercato internazionale ormai non si accontenta della mediocrità. Oggi si parla sempre più di qualità, però è vero che esiste questa qualità? Tutti dicono che fanno qualità e quasi nessuno dice che fa eccellenza. Credo che ormai si vada alla ricerca dell'eccellenza, cioè di quei vini eccellenti che riescono a suscitare delle emozioni. E non bisogna avere mai paura di mostrare le proprie emozioni. Quindi se ci si emoziona davanti a un vino, vuol dire che questo vino parla da solo. Quali le azioni da intraprendere per una maggiore promozione del territorio? Guardi, io non credo che oggi serva un altro vino nel panorama vinicolo mondiale, o un vino qualunque, o un vino comunque. Ma un vino diverso sì. Un vino che sia strettamente legato al territorio, o a dei territori, quali quelli rappresentati dall'Etna, che io definisco l'arcipelago nell'isola Sicilia. Ogni territorio esprime una sua particolarità che poi genera dei vini che sono unici. Quindi parlare dell'Etna, parlare dei suoi territori e parlare di vini unici diventa un tutt'uno.